Gli alti e bassi di mercato continuano ad essere presenti, ma i risultati dei principali strumenti azionari possono essere ritenuti senza dubbio positivi visto il contesto in cui ci troviamo. Per noi investitori europei, se guardiamo la situazione con una visione complessiva di portafoglio, difficilmente le cose sono andate poi troppo male fino ad ora. Infatti, oltre alla ripresa di mercato dell'ultimo mese e mezzo, chi ha un investimento con un'esposizione neutrale avrebbe oggi buona parte del proprio patrimonio in dollaro, perché ovviamente le aziende a più alta capitalizzazione sono appunto americane e sappiamo che il dollaro si è fortemente apprezzato sull'euro negli ultimi 12 mesi e questo ha contribuito alla rapida ripresa dei nostri investimenti. Ma al di là del movimento di prezzo, come ogni trimestre, è interessante capire quale è la situazione di mercato e poter dare alcune idee pratiche all'interno del video per noi investitori consapevoli che non vogliamo farci attirare dalle corse di mercato. Quindi nel video di oggi andiamo a fare due chiacchiere sulla situazione del mercato americano e tutto quello che lo circonda. Come sempre vi ricordo che potete lasciare un like per supportare il canale, far vedere il video a più persone e se siete nuovi potete iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi più neanche uno dei miei video. Per analizzare la situazione mi piace sempre partire dai risultati dell'ultimo trimestre. Gli utili aggregati dell'S&P 500 sono stati più o meno in linea con le attese. Come vediamo dal grafico, sono stati in realtà leggermente rivisti verso l'alto nel corso delle ultime settimane, ma poco più in alto rispetto agli utili attesi di aprile. Il trend è sempre il solito, con il mercato trascinato dalle aziende energetiche che hanno quasi quadruplicato i propri utili rispetto allo stesso trimestre lo scorso anno, mentre le classiche aziende cicliche hanno avuto dei cali importanti, come possiamo vedere dai risultati dei settori di beni di consumo discrezionali, finanziari e servizi di comunicazione. Infatti escludendo gli energetici, la crescita degli utili sarebbe stata addirittura negativa anno su anno. Come abbiamo già notato nel primo trimestre, inoltre la marginalità è quella che ha subito impatti importanti. Infatti il fatturato aggregato è comunque in crescita, una crescita del 13,7% con un 8,8% di crescita se andassimo a escludere gli energetici. Da questo punto di vista la situazione di inflazione ha sicuramente avuto un impatto importante perché vediamo che le aziende riescono sia a crescere il fatturato, ma non riescono a crescere gli utili tanto quanto stanno appunto crescendo il fatturato. Qui si può già iniziare a fare un ragionamento. Infatti nelle ultime settimane, con gli ultimi dati positivi per il CPI americano di luglio, si è iniziato a snobbare molto di più il problema legato all'inflazione. Luglio è stato sicuramente un mese positivo, ma da un dato non si possono trarre troppe conclusioni. In particolare il numero è stato in buona parte condizionato dai ribassi dell'energia, mentre il CPI Core, che esclude cibo e appunto energia, si è abbassato, ma aveva avuto già una crescita di solo lo 0,3% mese su mese anche lo scorso marzo. Anche se a dirla tutta, lo scorso marzo era stato trainato da un fortissimo ribasso del prezzo delle auto usate, mentre in questo caso è stato un rallentamento generale dell'inflazione. Dal punto di vista energetico poi si sottovaluta anche l'arrivo dell'inverno. Purtroppo le tensioni geopolitiche non sembrano calmarsi e la Russia è ancora l'arma del gas, di cui l'Europa avrà sicuramente ancora bisogno, almeno per il prossimo inverno. In questa situazione i prezzi dell'energia possono in qualsiasi momento tornare a impennarsi. E dobbiamo anche considerare che le riserve strategiche di petrolio, che sono state rilasciate in questi mesi dagli Stati Uniti, stanno diminuendo. Ora hanno toccato livelli così bassi che non si vedevano dal 1985. E oggi comunque il piano è che il rilascio di queste riserve venga fermato dagli Stati Uniti il prossimo ottobre. E questo porterà sicuramente un pochino più pressione al prezzo dell'energia. In questa situazione gli analisti si aspettano un peggioramento della situazione. Non proprio, anzi l'attesa è di crescita. 232.6 dollari di utile aggregato per quanto riguarda l'S&P 500 e in generale una crescita dell'8% per quanto riguarda l'anno 2022 e 2023. Ma di questo parleremo ancora più in dettaglio in un secondo momento. Ora, si può pensare a un prezzo congruo per l'S&P 500 in questa situazione? Solitamente quello che viene fatto dai vari analisti è trovare un multiplo congruo per il mercato date le attese degli utili. Per gli utili possiamo già avere le prime perplessità legate a questa crescita dell'8% che potrebbe, nel contesto in cui ci troviamo, sembrare anche leggermente elevata. Ma il multiplo attuale è appunto congruo con la situazione di mercato? Il mercato oggi ha un rapporto prezzo-utili forward di 18.4. Come facciamo a capire se questo multiplo è corretto o meno? Cos'è effettivamente il multiplo? Il multiplo altro non è che una funzione della politica monetaria e della crescita degli utili. Man mano che cresce il rendimento del mercato obbligazionario attraverso un rialzo dei tassi di interesse il rendimento richiesto del mercato azionario sarà superiore in quanto si vengono a creare delle alternative come appunto l'investimento obbligazionario e quindi questo tendenzialmente dovrebbe abbassare il multiplo. E in secondo luogo la situazione economica complessiva del paese ma in particolare la crescita appunto degli utili delle aziende e dell'indice perché come per le azioni un mercato che cresce di più ha un valore superiore rispetto a un mercato che ha utili stagnanti o addirittura in discesa. E gli Stati Uniti come sono messi da questo punto di vista? Beh sappiamo che i tassi di interesse sono stati incrementati aggressivamente tuttavia il decennale resta dei livelli non eccessivamente elevati più o meno in linea con quanto eravamo stati abituati a vederlo tra il 2013 e il 2019. A questo aggiungiamo una curva dei rendimenti invertita da ormai parecchio tempo. Ricordiamo che una curva invertita in alcuni punti, in questo caso tra i 2 e i 10 anni può favorire a seconda della durata e della magnitudine una recessione. Adesso rispetto alla breve inversione di marzo di cui in realtà si era parlato tantissimo sui social ma che effettivamente non aveva un valore per la minima magnitudine e per la bassissima durata siamo in una situazione peggiore con una inversione che è arrivata fino a quasi 50 punti base e la situazione che si protrae da oltre 40 giorni mentre registro. Quindi il multiplo è giustificato? In questo grafico vi mostro i vari livelli dell'S&P 500, dati gli utili attesi degli alanisti e la media storica del PE forward negli ultimi 5, 10 e 15 anni. Con questo semplice calcolo l'S&P 500 avrebbe quindi in questi casi target rispettivamente di 4300, 3900 e 3600 circa. Ma quale di questi tre numeri può avere più senso se crediamo appunto agli analisti? Se vogliamo semplificare il discorso e basarci solo sulla crescita attesa degli utili, vediamo come negli ultimi 5 anni gli utili abbiano avuto una crescita aggregata poco superiore al 14%, mentre negli ultimi 10 una crescita aggregata dell'8% anno. Semplificando tutto il discorso macro e quindi basandoci solo sugli utili attesi, allo stato attuale la media 10 anni sembra più adeguata rispetto a una media 5. E questo comporterebbe un fair price di 3900 per l'S&P 500 che comunque non è esageratamente più basso del prezzo attuale. Significerebbe un ribasso del 7% circa. A questo come dicevamo però ci aggiungiamo i rischi delle previsioni degli analisti. Come sappiamo molti analisti tendono piuttosto a seguire gli umori di mercato che azzardarsi in previsioni che poi potrebbero discostarsi di tantissimo dal risultato finale. In questo momento sicuramente quello che mostra il consensus è una idea che si possa effettivamente arrivare al cosiddetto soft lending che permetterebbe all'economia americana di passare senza troppi problemi il periodo di recessione. Quindi con comunque utili attesi in crescita per buona parte delle aziende. Ovviamente in modo diverso utili in decrescita comporterebbero da una parte un calo effettivo del prezzo target dell'S&P 500 e dall'altra un calo anche dei multipli attesi appunto per delle prospettive più negative rispetto a quanto fosse previsto. Per questo motivo i multipli forward e la media storica dei multipli dell'S&P 500 vanno presi con le pinze soprattutto per chi ha orizzonti temporali più brevi. A questo aggiungiamo anche i rischi di un nuovo peggioramento della situazione energetica e di rialzi dei tassi di interesse più forti rispetto a quanto atteso dal mercato che è tornato in euforia scontando rialzi molto più leggeri di quanto possa effettivamente essere possibile soprattutto nel caso i dati dell'inflazione non continuassero a scendere nel corso dei prossimi mesi e quindi luglio fosse banalmente solo un outlier. E quindi quali sono gli spunti pratici? Come avrete capito dal video faccio veramente fatica ad essere estremamente positivo rispetto ai prossimi 6-12 mesi e ritengo che sorprese e trappole siano comunque dietro l'angolo. Come impostare il proprio portafoglio secondo queste idee è un altro discorso infatti molto dipenderà dal vostro orizzonte temporale, profilo di rischio e capacità di risparmio rispetto al portafoglio. Per chi ha un orizzonte temporale più breve, perché magari ha un'età più avanzata perché magari ha poca capacità di risparmio rispetto al controvalore di portafoglio quindi crea poca liquidità nuova da investire e magari si trova ad aver già investito nei rebassi della prima metà dell'anno potrebbe sicuramente aver senso tirare il rem in barca e prendere parte dei gain creati da questo rally. Questo perché in un eventuale nuovo calo di mercato aiuterebbe avere parte del portafoglio liquido per poter appunto trarre vantaggio da un calo che è sicuramente possibile. Dall'altra parte i più giovani propensi al rischio potrebbero semplicemente restare a guardare e non toccare il portafoglio perché comunque il calo sarebbe relativamente meno significativo per le più alte capacità di risparmio rispetto al controvalore di portafoglio. Insomma in primis c'è da valutare la propria situazione personale, finanziaria e psicologica dopodiché avere una strategia per l'accumulo ed accumulo eventuale di liquidità in una situazione tanto volatile come quella che stiamo vivendo nell'ultimo anno. L'importante è aver chiaro perché si investe e non semplicemente cercare di indovinare se l'ultima risalita possa essere un'inversione di mercato o un bear market rally perché tanto quello lo sapremo solo a posteriori. Concludiamo questo video con una piccola pillola statistica ovvero l'S&P 500 dal dopoguerra a oggi dopo essere entrato in un mercato bear e aver recuperato più del 50% di quanto aveva perso prima come è successo appunto dopo questo recente rally di mercato non è mai andato verso nuovi minimi ma ha sempre toccato nuovi massimi. Quindi sarà la prima volta che questa statistica viene smentita o non arriveremo a nuovi minimi? Fatemi sapere qual è la vostra idea lasciando un commento qui sotto vi lascio il link in descrizione del documento da cui ho preso buona parte dei grafici e dei dati del video prima di salutarci come sempre vi ricordo che potete lasciare un like per supportare il canale, per supportare il mio lavoro far vedere il video a più persone e se siete nuovi sul canale potete iscrivervi cliccando sulla campanellina per non perdervi più neanche uno dei miei video noi ci vediamo in un prossimo video alla prossima! Ciao! 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 Ciao!